Il concetto è molto semplice, fino a quando non si girano i pedali la bicicletta non aiuta. Il motore è un sensore di coppia che sente lo sforzo sul pedale e aiuta. La e-bike è una bicicletta normalissima alimentata da una batteria. Le nostre e-bike Rossignol montano batterie a litio. Le batterie a litio hanno la possibilità di essere ricaricate parzialmente senza danneggiare la batteria. Con un'accurata manutenzione le batterie Shimano riescono a garantire mille cicli di ricarica. Come una normale bicicletta, un normale lavaggio, mi raccomando, senza l'idropulitrice, quindi niente acqua d'altra pressione. Qualche goccia di olio sulla catena, mi raccomando, senza farla cadere sui dischi dei freni e può scappare qualche goccina sul motore, non capita assolutamente niente. Sicuramente la mountain bike classica ha un peso inferiore e una maneggevolezza molto più agile. L'e-bike ha un peso superiore, che è il suo piccolo lato negativo. Sicuramente l'e-bike ci porta in destinazioni dove non saremo mai riusciti ad arrivare in posti e in sentieri impensabili. Il concetto è molto semplice. La pedalata assistita funziona in questo modo. Se noi riusciamo a dare più potenza alla nostra pedalata, il livello di assistenza che abbiamo in quel momento inserito nella nostra e-bike riesce a sviluppare molto più aiuto. Riusciamo anche, durante il nostro tracciato, durante la nostra pedalata, a cambiare i livelli di assistenza tramite un comando e un display. Se sei ancora incerto sull'acquisto della tua e-bike, il consiglio è di passare nei nostri negozi Rossigno Pro Shop Italia, dove sarai consigliato al meglio, dove troverai sconti e promozioni tutto l'anno per quanto riguarda il settore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.